La campagna elettorale è finita, è stata una campagna elettorale difficile per le condizioni avverse, condizioni atmosferiche, ma anche le condizioni di ecologia della discussione. Purtroppo abbiamo assistito a una campagna elettorale appiattita sulla cronaca nera, lì dove si abbeverano ogni tanto i fomentatori d'odio. Ecco, noi nel nostro piccolo, nel collegio di Monza e Brianza, abbiamo provato a fare il contrario invece, a raccontare che le fragilità, le debolezze, i cosiddetti secondi se non addirittura gli ultimi, non sono un peso per questo paese e sono quelli a cui tendere la mano e che si tende la mano senza chiedere il credo religioso, l'etnia, la provenienza. E poi abbiamo raccontato che forse più che occuparsi del migrante che ci fa paura sotto casa sarebbe arrivato il tempo di parlare di mafia, di corruzione, del riciclaggio di denaro, che sono i veri problemi di questo paese. Chissà perché si fa sempre fatica ad affrontare. Siamo pieni di uomini forti che sono forti con i deboli e poi diventano debolissimi con i forti o addirittura, come è successo in queste elezioni, ci si alleano. Quello che sono, quello che ho fatto, lo trovate scritto nei miei blog. Poi in fondo forse quello che sono il mio manifesto elettorale, come dice qualcuno, è un manifesto culturale, che è la mia vita, le scelte che ho fatto, le ho pagate tutti i giorni, le pago tutti i giorni. E allora quello che vi chiedo, guardate, indipendentemente dal fatto se volete votare me, se volete votare liberi o uguali, ecco però usatelo il voto. Anzi, fate di più, usatelo il vostro voto. Anche contro tutti quelli che vi chiedono di annaquarvi, di diluirlo, in nome del voto utile. Il vero voto utile è quello che disegna un paese che ha una visione di futuro che assomiglia alla vostra. La vera politica utile è quella che crea una comunità, che non arriva il 4 marzo, poi fa i conti, eccetera. Una comunità che il 5 marzo si sveglia, il mattino dopo, con la collina in bocca, con la voglia di risentirsi e di ritornare a fare le cose insieme. Perché trovare persone che abbiano la stessa convergenza di sensibilità, chiamiamola così, ecco, è una delle cose più belle che possa succedere per chi vuole cercare di contribuire al bene del proprio paese. E allora votate, fate votare. Se volete darmi una mano, beh, allora potete condividere questo video, telefonare gli amici, parenti, andare casa per casa. Tutti quelli che abitano Monza e nella provincia di Monza. Del resto, se ci pensate al giorno d'oggi, chi non ha un amico brianzolo? Buon voto e buon paese, possibilmente libero ed uguale. Buon voto e buon paese.